Addio Danger Egg! Ebbene sì, da domani arrivano gli Urban Egg! Non sai di cosa sto parlando? Ci penso io! La tua Frenchie Dreams di fiducia è qui pronta per spiegarti tutte le novità di Adopt Me in questo nuovissimo Adopt Me News! E ciao a tutti i dreamers, i miei amatissimi sognatori, io sono Francesca e benvenuti sul canale, benvenuti in un nuovissimo video! Se anche voi siete felicissimi dell'arrivo del nuovo egg, un bel bel, bel mi piace, adesso è d'obbligo, mi piace, now! Infatti quando andiamo su Adopt Me c'è già scritto Adopt Me, come down now! Nuovo uovo in arrivo, prendi i tuoi Danger Egg finché puoi, adotta la tua Burted Butterfly, stai ancora nella giungla, ok? Ragazzi, i Danger Egg vanno via! Allora, oggi ci connettiamo per il 1042esimo giorno, eccolo qui, ho preso i miei 50 dollari e siamo a 644 stelline, manca poco per il nostro coso, uovo, uovo di diamante! Allora, con noi c'è una farfalla, ma in realtà io ho diverse porzioni da fare, tipo schiudite le uova, non credo di avere egg da schiudere per il momento, magari ce li conserviamo per la live di domani, assolutamente sì, ce li conserviamo per la live di domani! Dov'è il mio... Ok, dov'è il mio Maurice? Eccolo qui, vi ricordo che stiamo cercando di farlo luminos, così abbiamo ben 100 dollari, che male, non ci fanno! Vesti il tuo pet con un accessorio e salva l'outfit, vediamo un po' come possiamo vestirlo, così essi facciamo i gemellini? Però forse... eh no, questo è qui no, anche se ne ho altri liardi, qualcuno si è introdotto in casa, blu, magari gli stanno meglio blu, esatto! E facciamo i gemellini, salva l'outfit, salva l'outfit, sì, Maurice ha fame ragazzi, facciamo mangiare Maurice e abbiamo preso già qualcosina! Vedi una pozione, sapete quando ci sono queste cose? La mia pozione, quella lì, la pozione da bere per sempre è questa qui! La mia bubble head! Allora, in realtà ce ne dobbiamo andare al centro, gentaglia, ce ne dobbiamo assolutamente andare al centro, perché lì hanno messo il countdown dei nuovi pet, il che vuol dire che lì su, proprio lì su nel cielo più blu, si possono vedere già alcuni pet, ed eccoli lì! Abbiamo una specie di dragon, dove sono tutti? Saranno lì? Ci aspettate? No? Ok, corro, 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 è carinissimo il mio Maurice che corre, ma non è proprio velocissimo, eccoli qua, sì, i coreani sono sempre qua, sono in un deserto, sono in un server coreano, vedete? Non so perché ma vengono sempre qui, ah, raga, io che devo cambiare anche l'outfit, poi portiamo anche il nostro petto a dormire e a bere, ma io devo andare con il mio avatar di Roblox, sì, ma what? Non credo che questo sia il mio avatar di Roblox, sì, questo è il mio avatar di Roblox, sono senza faccia, perché qui ce l'ho? E allora adesso c'è un problema, che momentaneamente teniamoci questo, poi capirò come sistemarlo di nuovo, raga, non è andata come previsto, sì, mi sono impallata, sì, credevo che la mia faceless ci sarebbe stata, la mia senza volto, invece non c'è, forse perché rientra comunque nei vestiti 3D che Adopt Me non ha ancora. Avrei dovuto salvarmi l'outfit, non ci ho pensato, ragazzi, ok, non ci ho pensato, avrei dovuto pensarci, vediamo un po' se dentro il journal si parla di nuovi petto, allora raccolto, andiamo in raccolto che è più facile, è di andare alla fine, no, mi resta comunque il golden, ciao ciao, e beh, è Levi l'unicorn, cuffino, Maurice, purtroppo il mio Maurice, ah, adesso aspettate, è notte, vuol dire che io posso usare la mia broomstick, se è notte, sì, broomstick, broomstick dov'è? Se è giocattoli, esatto, vabbè, ci andiamo tra un secondo, bro, giustamente la broomstick non fluttua, guarda, ma scusatemi, ma che vuol dire questo petto, ma è orribile, io pensavo che questo fosse un leggendario, raga, io pensavo che questo fosse un leggendario, ma è orribile, cioè, mi ricorda molto Toothless sdentato di Train Your Dragon, ma è bruttino, cioè, non è che mi sconfinfera molto, e poi abbiamo un falco, allora, io credevo che mi sarebbero piaciuti un po' di più questi petto, lo ammetto questi due petto che hanno mostrato qui come sneak peek, non mi fanno impazzire, quella specie di falco, aquila, una cosa del genere, e quel drago nero basandovi su questi due petto che abbiamo appena visto, voi che cosa ne pensate, vi piacciono, non vi piacciono, tra i due qual è il vostro preferito? ovviamente all'inizio ci hanno fatto vedere anche quel piccolo gattino, e il gattino anche mi piace, ma palesemente il gattino sarà tipo comune, o non comune al massimo, i gatti sempre sono comuni o non comuni, e mi brude tantissimo la guancia, e non lo so, forse il tema dell'uovo in generale, che non è che mi fa impazzire l'urban, ah, dobbiamo andare indietro, qui c'è anche un piccolo sneak peek dell'uovo, lì su, qui c'è lo sneak peek dell'urban, dove vi fanno vedere, l'accesso, vi fanno vedere un po' come sarà la nuova mappa, cioè, raga, vi devo dire, l'idea è carina, ma urban pet non è che mi sconfinfera molto, non solo trovo un tema un po' banale, e poi ci sono tanti pet che possono essere, che già ci sono, che possono essere considerati urban, cioè dalla città, cani, gatti, pappagallini, cioè, non lo so, forse è perché sono interdetta su tutta la questione dell'uovo, lo facciamo fare quest'ultima missione a Maurice, e poi ce ne andiamo a vedere il video di YouTube, con tutti i vari, con tutti i vari Twitter, e così via, ragazzi, io vi ricordo che avete tempo fino a domani, domani pomeriggio i danger egg vanno via, vanno via per sempre, quindi, se non li avete comprati, o se vi mancano i pet, comprateli ora, non conservate i soldi per comprare i nuovi egg, usate i vostri soldi per comprare i danger egg, che così poi li potrete anche utilizzare per scambiarli Allora, io solitamente, no, Maurice ha già sede, stavo per dire, io solitamente tolgo il pet, così poi ci dà fastidio mentre vediamo le cose, ma in realtà, dato che voglio farlo crescere, ho bisogno di tenerlo, quindi, andiamo, Maurice, continua a fare le tue missioncine, lo mettiamo però a dormire, perché così almeno non ce l'abbiamo nelle orecchie che fa, ok, allora, raga, andiamo subito su YouTube, allora, ecco qui, allora, possiamo già dire che c'è Matt, un bel mi piace, va sempre messo, Urban Egg, Sneak Peek, Adopt Me, o Roblox, allora, vediamo, sono Matt, come sapete, Jesse è impegnato con un trasloco, quindi, per le prossime settimane ci penso io alle weekly news, però, ragazzi, ho questa cosa, l'ho notato solo io, o non stanno più dicendo straight to your devices, cioè, è una mia impressione, o davvero non lo stanno dicendo più, perché se non lo stanno dicendo più, ragazzi, è dramma, dramma, ah, ok, sì, lo stanno dicendo, prima di andare nooo, ragazzi, l'hanno cambiato, non ho detto straight to your devices, va bene, un nuovo uovo sta arrivando su Adopt Me, l'Urban Egg verrà rilasciato questo giovedì nella newsery, allora, c'è da dire che comunque tutto il tema così è fighissimo e mi piace, è l'idea dei possibili pet che vengono contenuti, che non mi sconfinfra 12 nuovi pet, ok, questi pet sono questi pet sono quello che vi aspetterete, i pet che vi aspettereste di vedere in giro per il mondo la platta, non la voglio nemmeno vedere, vi giuro io ho paura di due cose, i ragni, ma riesco un po', e le platte, ma le platte mi pietrifico cioè, ok, 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 il paddle mi piaceva, torno indietro al paddle, il paddle è raro, ok ah, ultra raro il gatto, ok, e il gargoyle leggendario, sarebbe il drago che abbiamo visto prima gargoyle perché? ho questo dubbio, solo questo dubbio, perché? questi sono soltanto alcuni pet che vi dovete aspettare di vedere questo week, ovviamente ce ne ha fatti vedere 4 ce ne sono tipo 12, quindi, ok se però vuoi vedere tutti i pet, torno a mercoledì vi rifaccio vedere, vabbè, come al solito i lunedì news, perché questi video escono il lunedì sono sempre un, ok, io ti butto l'amo, ti butto l'esca, però se vuoi sapere di più torno a mercoledì quindi si parlava di fan art e basta devo dire, l'egg però mi piace tantissimo, adesso ve lo faccio vedere dalla miniatura si può vedere l'egg, che è simpaticissimo perché gli hanno messo su un cono di quelli lì per seguire la strada cioè questi coni qui, l'egg di per sé sembra davvero molto molto carino non il migliore forse, non il più bello, ma è molto molto carino fatemi sapere voi che ne pensate di questo egg adesso spostiamoci su Twitter allora, il 19 agosto hanno pubblicato questo video dove si inizia a vedere tutto la news story di per sé è davvero fighissima, molto molto particolare e mi piace molto come il setup della news story è l'egg che non mi sconfinferà vi devo dire la verità, non lo so perché ma è l'egg che non mi sconfinferà molto 3%, ho letto bene raga, 3% di possibilità di leggendari siamo rovinati siamo rovinati poi qui c'è un piccolo egg simpaticissimo vedete, è come se avesse questo cappellino davvero niente niente male ci sta senero simpatico con tutte le stelline, i cuoricini e così via mi piace come egg ma lo trovo carino semplicemente, lo trovo molto molto carino poi qui possiamo vedere il piccolo, il nuovo gattino ultra raro ci sta, anche se mi ricorda molto il gatto, quello lì che citavano con l'evento del gatto degli stivali mi ricorda molto quel gatto lì però non vedo l'ora di scoprirlo domani in live e vabbè qui dicono sta arrivando il nuovo egg guardate che non avete tempo il deadger egg va via e verrà sostituito nuovo egg come down in game now e poi abbiamo il gargoyle leggendario non lo so raga è simpatico perché appunto vi ho detto mi ricorda sdentato di train your dragon per questo lo trovo tenero ma non lo so ho bisogno di sapere voi che cosa ne pensate e infine se andiamo su adopt me egg come down cioè senza egg adopt me come down possiamo vedere che il nuovo aggiornamento sarà il 24 agosto alle 17 quindi ragazzi voi sapete cosa vuol dire vuol dire che noi il 24 agosto cioè domani alle 16 e 45 saremo in live sul canale per vedere il nuovo aggiornamento insieme e aprire tantissime ma tantissime urban egg vi lascio la live qui ragazzi cliccate e correte a cliccare sulla live per attivare il promemoria e non perderla mentre se ancora non siete iscritti al canale ma cosa state aspettando per diventare dei nuovi dreamers tappa qui sul pallino e sul tastino rosso iscriviti io vi saluto e ci vediamo domani in live e mi raccomando ragazzi non smettete mai di sognare ciao 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 ciao